righetto dal ciuffo favola di charles perron voce narrante di marisa vacca c'era una volta una regina alla quale nacque un bambino così brutto e così malfatto che si dubitò persino che fosse una creatura umana tuo figlio avrà tanta intelligenza e tanto spirito che riuscirà simpatico a tutti non solo ma avrà il dono di rendere intelligente come lui colei che amerà più di tutte le altre donne al mondo disse alla madre una fata presente alla nascita la regina a quelle parole si sentì un po' consolata e col passare del tempo si accorse che la fata aveva detto il vero il principino al quale era stato imposto il nome di enrico ma che tutti chiamavano righetto dal ciuffo per un bizzarro ciuffetto di capelli che gli spuntava sulla fronte aveva tale ingegno che tutti rimanevano sbalorditi a sentirlo discorrere e disertare ed era così geniale e così originale che si attirava le simpatie di tutti alcuni anni dopo la nascita del principe righetto alla regina di un paese vicino nacque una bimba bella come luce ed aurora sua madre vedendola rimase rapita e tutti gli abitanti andarono in visibilio dinanzi alla leggiadrissima neonata ma la stessa fata che aveva assistito alla nascita di righetto dal ciuffo dichiarò alla madre della vaga principessa tua figlia sarà di prodigiosa bellezza ma tanto stupida da scoraggiare tutti coloro che la avvicineranno tuttavia non affliggerti per questo tua figlia avrà il dono di rendere bello colui che amerà più di tutti gli altri uomini al mondo la sovrana a quelle parole si sentì un po' riconfortata col passare del tempo si accorse che la fata aveva detto il vero la principessina crescendo diventava ogni giorno sempre più bella maimè anche la sua mancanza di intelligenza non faceva che aumentare la principessa era così stupida e così insulsa che faceva spazientire tutti a corte persino sua madre la quale spesso sebbene saggia la rimproverava per le sciocchezze che diceva e che faceva tanto che la giovinetta si era immalinconita soffrendo atrocemente per la propria inferiorità un giorno andò a rifugiarsi nel folto di una foresta per piangere in solitudine sulle proprie sventure allorché vide giungere un omettino dal volto bruttissimo e dalla corporatura tozza e sgraziata che un magnifico vestito di seta e di velluto non riusciva a celare sulla fronte convessa dalle bozze irregolari esporgenti spuntava un bizzarro ciuffettino di capelli irto e ribelle avete certamente indovinato che si trattava del principe richetto dal ciuffo poco tempo prima egli aveva veduto una miniatura col ritratto della giovane principessa se n'era innamorato perdutamente e si era allontanato dal suo regno per andare da lei per incontrarla e per parlarle felice di trovarla sola nel bosco le si avvicinò con molto garbo le porse i suoi omaggi e osservando che la fangiulla era molto malinconica le disse non riesco a capire madame migella come una creatura bella come tu lo sei possa essere tanto triste eppure sebbene io abbia veduto molte le giadre fanciulle non ne ho mai incontrata alcuna che avesse la tua venenza e la tua grazia se così ti va di dire rispose la principessa e non seppe trovar di meglio da rispondere al giovane principe la bellezza presenta tanti vantaggi riprese richetto dal ciuffo che può compensare da qualsiasi altra cosa e perciò non riesco a capire come mai tu possa essere tanto afflitta esclamò la giovinetta preferirei essere brutta come te ma intelligente piuttosto che bella e stupida come sono io ecco perché sono tanto triste ebbene sappi che io ho il potere di donare l'intelligenza più viva a colei che amerò più di tutte al mondo e tu sei quella sta in te accettare il mio dono e il mio amore la principessa rimase interdetta e non rispose nulla vedo che la mia proposta ti dà pena disse richetto dal ciuffo e non me ne stupisco ti lascio un anno di tempo per riflettere e per prendere una risoluzione in merito a quanto ti ho detto la principessa non riusciva a capire che cosa significasse un anno di tempo e immaginava che si trattasse di un termine molto molto lontano e così accettò aveva appena dato la sua parola al principe richetto dal ciuffo che come per incanto la sua mente cominciò a illuminarsi e la sua intelligenza a schiudersi come la corolla di un fiore a corte tutti erano stupefatti a un tale mutamento e assistevano con gioia a quella felice trasformazione in capo ad un anno la principessa andò per caso a fare una passeggiata nella foresta dove aveva incontrato richetto dal ciuffo ed ecco che a un tratto udì un rumore sordo sotto i suoi piedi e delle voci che si parlavano continuamente portami quelle pentole diceva l'uno dammi quel brico ordinava l'altro metti della legna sul fuoco comandava un terzo nel medesimo istante la terra si fendette e davanti allo sguardo della fanciulla apparve un'immensa cucina nella quale una fitta schiera di cuochi di cuochetti e di sguatteri si facendavano intorno ai fornelli mentre serventi e servitori portavano tutto quanto occorreva per apprestare un sontuoso convito numerosi spiedi giravano lentamente su se stessi mentre una trentina di rosticceri padavano a ungere i tacchini i fagiani le anatre i capponi e le oche e cantavano in cadenza una canzoncina gioconda la principessa le guardava stupita e chiese al capocuoco per chi lavorassero prepariamo le vivande per il banchetto di nozze del principe richetto del ciuffo che si sposa domani rispose il cameriere la principessa che aveva assolutamente dimenticato l'incontro di un anno prima quando la sua mente era tanto ottusa fu ancora più stupita vedendo giungere richetto dal ciuffo pomposamente vestito e lussosamente agghindato ma più brutto che mai eccome qui le disse il giovane principe con un profondo inchino puntuale nel mantenere la mia parola e non dubito che tu sia qui altrettanto puntuale nel mantenere la tua la principessa rimase perplessa e rispose esitando arichetto dal ciuffo che veramente non aveva preso alcuna decisione in merito il principe non si sgomentò per questo e le chiese vedo che sei incerta e titubante e che non sai risolverti a dirmi che accetti il mio amore diventando la mia sposa è proprio così rispose la fanciulla ebbene dimmi un po disse il principe richetto a parte il mio aspetto sgraziato c'è qualcosa che ti dispiace in me principessa la mia nascita la mia intelligenza i miei modi no di certo rispose la principessa amo in te tutto ciò che hai detto e allora tu puoi fare di me l'uomo più felice la stessa fata che mi ha dato il potere di rendere intelligente la donna del mio cuore ha dato a te il potere di rendere bello l'uomo che amerai tanto da concedergli di diventare il tuo sposo se le cose stanno così rispose la principessa ha consento a sposarti e desidero con tutta l'anima di farti il dono che tanto brami la principessa aveva appena finito di pronunciare quelle parole che richetto dal ciuffo le apparve prodigiosamente trasformato prestante e aitante con un volto bellissimo radioso di gioia il duplice incantesimo si era compiuto e i due fidanzati si sposarono il giorno seguente in mezzo al tripudio generale vivendo poi sempre felici fino a cento anni fine del racconto